La scuola di Leonardo da Vinci già 500 anni fa, oggi è una realtà la cui peculiarità è la possibilità di volare i nomi, cioè la capacità di volare a punto fisso. Ed eccolo di fronte a voi, 360, da parte di Leone 01. A chiudere la vinata, ma poi dal resto...